ciao a tutti oggi niente moto divertentissime ma mezzi molto più utili 8 maxi scooter che abbiamo selezionato per una comparativa che vi dirà qual è il miglior mezzo per fare quello che dovete fare tutti i giorni andare in ufficio nel weekend andare in vacanza insomma farvi un giretto anche in vacanza perché no e anche andare a divertirvi tra le curve insomma sono quattro con una connotazione un po più turistica e quattro con una connotazione un po più sportiva comunque devono fare tutti la stessa cosa accompagnarvi giorno per giorno iniziamo da quelli un po più turistici che poi è una distinzione semplicemente un po formale abbiamo il nuovo honda x adv il classico suzuki burgoman 650 il bmw c650 gt e anche il piaggio mp3 500 versione business questi sono quelli un po più sportivi che ci aspettiamo ci faranno divertire un po più di più tra le curve bmw c650 sport yamaha t max versione dx quella super accessoriata in coa k5 50 grande sfidante t max onda integra programma oggi città domani autostrada dopo domani curve cercheremo di fare quanta più strada possibile di provarle nelle situazioni più disparate restate connessi e ci aggiorniamo stasera coi primi difettucci che riscontriamo in città ciao grazie a tutti grazie a tutti